Nel libro su San Paolo tu insisti per esempio sul fatto che nella vicenda storica la Chiesa si trova sempre poi impastata anche con le forze del male, con questa dimensione del potere terreno e del suo esercizio anche nell'organizzazione della vita interna della Chiesa. Certo perché come forma politica la Chiesa ha a che fare con i cateconi, anche con elementi catecontici perché deve far pazientare perché l'avvento, la parousia ha da venire quindi deve pazienza, non si deve affrettare il tempo tutta questa è una costante dell'atteggiamento della Chiesa contro ogni movimento di tipo rivoluzionario così come noi lo intendiamo un po' a orecchio, messianico rivoluzionario. L'opposizione è netta ai giochi miti, tutto alla grande corrente giochi mita che investe tutto il medioevo che corre dentro anche tutti gli ordini religiosi in particolare il francescanesimo ma la scelta decisiva di Francesco è stata quella all'inizio di non avere rapporti con il giochimismo se no non sarebbe stato quel santo e non avrebbe fatto la riforma che in qualche modo è riuscito a realizzare all'interno della Chiesa. Quindi la Chiesa da un lato deve essere anche potere catecontico, dall'altro appunto non può assolutamente limitarsi ad esserlo però è fondamentale che tenga anche alla forza politica, al potere politico nella sua accezione catecontica. Che cosa sta avvenendo secondo me oggi davvero di epocale? Che come sta crollando ogni potere catecontico, cioè impero dove? Se dice in fondo viviamo un tempo di apocalisse. Viviamo, cioè come sta crollando ogni potere catecontico, cioè tutti quei poteri che frenano l'avvento dell'anticristo, in San Paolo, così sta crollando il potere catecontico della Chiesa. La Chiesa non tiene più in forma alcun che, questo è tutto. Sì, le dimissioni del Papa sono emblematiche proprio per questo, perché denunciano, è chiarissimo che c'è questa dimensione di dimensione del Papa, dimentichiamoci tutti gli affari, ma è chiarissimo, cioè io non sono riuscito a tenere, io non sono riuscito a tenere, cioè la Chiesa mi è scoppiata, gli anticristi, motivo di nuovo di Paolo ripreso potentemente da Agostino, che ricordo anche nel Divo, gli anticristi che sono in noi e sono diventati ingovernabili. Cioè il messaggio fortissimo del Papa è questo, quindi Chiesa, pentiti, convertiti, dimettiti da ogni stanza di potere, da ogni stanza di potenza che non sia quella potenza legittima che significa che cosa? Sulla base del tuo esempio, dare ordine, mettere in ordine. E attenzione, non basta questo, e dov'è la tua voce profetica, Chiesa? Eh, già, l'ultima voce profetica, la voce profetica di Papa Voitila è una voce profetica che aveva quasi annullato la dimensione catecontica. E invece il problema è il messo tra le due, tra la dimensione profetica e la dimensione catecontica. Qui hai la dimensione catecontica che sta andando a rotoli, come in tutto il mondo, anche a livello politico. E quindi la Chiesa è investita da una crisi globale. Dall'altra parte, chiusa la fase profetica eccezionale, straordinaria di Papa Voitila, i disastri interni della Chiesa stanno soffocando ogni possibilità anche di voce profetica, dell'emergere di voce profetica. E quindi il popolo dove va? Il popolo non è più tenuto in forma e non ha più il profeta che lo orienta e lo indirizza. Questo è il senso del discorso di Papa Razzi. E cosa dice Papa Razzi? Io non sono profeta, non ho voce profetica e non ho potere catecontico. Cosa faccio? Mi dimetto. Ma questo è un messaggio potente che dà la Chiesa. Tu, Chiesa, non hai voce profetica, non hai più voce profetica, nessuno più ti segue, il profeta segue l'indirizzo, e a livello politico l'equivalente è l'impero, imperare, e sei impotente dal punto di vista catecontico. Cosa facciamo, Chiesa? Cosa facciamo, Chiesa? Dobbiamo dimetterci? Cioè un appello straordinario, di una forza pazzesca, che è davvero incomparabile a ogni altro. Celestino, viene fuori Celestino, ma è comico. Celestino è stato preso e buttato fuori da un grande Papa, da un colossale Papa, Bonifacio VIII, che voleva farlo lui, il Papa. Ma un capo, altro che capo, in lotta con gli imperi, scusa, che aveva avversari gentucola come Dante, scherziamo. Infatti Dante lo tratta malissimo Celestino, per carità. Cioè, un poverino che non aveva idea di questi confitti, di cui invece Bonifacio VIII aveva piena idea e piena consapevolezza. Tanto è vero che mica Bonifacio VIII se la prende con i francescani, con i dominicani, anzi, sa benissimo che ci vuole la voce profetica, ma poi la potenza catecontica al massimo, se no come fai a contrastare gli stati nazionali nascenti, eccetera? Quindi, il paragone con Celestino è semplicemente risibile. Invece il dramma di Ratzinger, secondo me Ratzinger è del tutto consapevole di questa sua dimensione, qui dopo Voitila voce profetica non c'è, è del tutto consapevole del limite di Voitila, essere solo voce profetica. E basta, e disinteressarsi totalmente degli enormi casini che succedevano all'interno della forma politica, è una forma politica che adesso subisce esattamente come tutte le altre forme politiche un crollo di autorevolezza drammatico. Tutto ciò in Italia si moltiplica all'ennesima potenza e rende anche interessante la totale confusione di questo paese, perché se c'è un paese in cui in modo inaudito si assiste al crollo di ogni forza catecontica, di ogni rappresentatività politica, di ogni capacità amministrativa anche minima, è questo paese qui. Questo paese guarda a caso anche il paese dove si sta il papato. E ciò vorrei dire a tutti coloro che ci ascoltano, per fortuna che abbiamo il papato, altro che il papato che interferisce, come dicono i certi testi di cazzo, altro che, per fortuna che abbiamo il papato, perché se contiamo qualcosa sulla faccia della terra è grazie al fatto che possiamo parlare in presa diretta e in prima persona di questi conflitti epocali. Ciò che rende interessante questo paese è il fatto che siamo l'impotenza politica allo Stato puro e la crisi del papato. Nella Chiesa alcune, secondo me anche in Ratzinger, nell'ultimo Ratzinger, in qualche modo anche in Votila, c'era la consapevolezza che si aprì una fase apocalittica, perché appunto finita l'epoca, finito il Novecento, finite le tragedie del Novecento, loro si sono trovati, la Chiesa si è trovata a dover fare i conti con uno almeno degli autentici volti dell'Anticristo, che appunto non è l'ateismo, non è il trionfo del mercato e del valore economico. È il trionfo dei valori, è il trionfo dei valori, non c'è verità, ci sono soltanto valori. È la tirannia dei valori, quindi la tirannia dei valori, l'ideologia e l'ateismo non erano valori, erano verità, si presentavano come verità. e contro questi nemici la Chiesa è sempre stata in qualche modo attrezzata a reagire, è sempre riuscita a reagire, ma contro la tirannia dei valori, fatica enormemente e non so se ce la farà, e comunque quello che è certo è che nei confronti della tirannia dei valori è impossibile il compromesso. Perché è impossibile il compromesso? Perché i valori ti scappano a ogni compromesso, non sono interessati al compromesso. Stalin era interessato al compromesso con la Chiesa Ortodossa, Mussolini è interessato, anche Hitler, forse Hitler alla fine se avesse continuato, lì era davvero l'anticristo, forse, la pace universale sul deserto realizzato, l'unificazione, forse, ma non era perché era la verità, invece l'anticristo è una cosa diversa, perché l'anticristo non ti sfugge all'esigenza appunto del confronto, non è una figura dialogica, come bene o male, anche in termini tragici sono state le grandi ideologie, non confligge l'anticristo, non confligge, non confligge, assorbe, placida, assorbe, conforma, omologa, e la Chiesa è davvero disarmata, perché non c'è arma contro questo tipo di avversario, dove sta, è anonimo, e quindi questo, però è interessante pensarci, che rappresenta nella centesis, uno sanno, c'è una certa consapevolezza in questo, ma è interessante anche pensarci dal punto di vista di altre forze che potrebbero volersi opporre, perché di fronte a questa figura emergente dell'anticristo, io credo che non ci sia soltanto il problema di un'opposizione da parte della Chiesa, diciamo, ma in fondo a pensarci è anche la difficoltà enorme che trovano ad opporsi a questa figura altre forze, è ben diverso, cioè anche queste altre forze, anche forze rivoluzionarie, laico-rivoluzionarie, avevano un nemico che aveva una sua forma, aveva un suo nome, aveva un suo status, era territorializzabile, tra virgolette, adesso la stessa difficoltà che ha la Chiesa a combattere queste forze, questa forza, credo che la stessa difficoltà la trovi mutatis mutandis, anche un impegno rivoluzionario, quando deve confrontarsi con i flussi della finanza piuttosto che con degli stati territoriali, con i flussi della finanza, con il sistema, con il gestel, per dirla con Heidegger, con il sistema, con i servomeccanismi del sistema, con le leggi di natura, perché ormai sei in una situazione in cui tu ti confronti, non con una volontà politica, con una volontà economica, ti confronti con ormai, questo è passato, con leggi di natura, ed è esattamente così la Chiesa, non è più la posizione atea, la posizione non credente, la posizione ideologica, ma è appunto il mercato, come aveva profetizzato Nietzsche, è il mercato, nel mercato tu sei indifferente, la tua posizione è indifferente, tu sei un valore tra gli altri, punto, basta, interessante quello che dici, bene, valutiamolo, quanto audience fa, quanto vale, e quindi credo che il dramma che sta vivendo la Chiesa, capirlo sia tutt'altro che indifferente rispetto ad altre potenze, ed è qui si aprirebbe quella che è la mia stupida utopia, cioè quello di fare, ma anche di altri che vengono da esperienze analogiche alle mie, è quello di riuscire a creare un'asse tra fede autentica nella sua complessità, non la fede del cuore, ma la fede che fa tutt'uno con la politica, teologia e politica, eccetera, eccetera, e movimenti di opposizione o rivoluzionari nei confronti di queste leggi di natura. Io credo che potrebbe essere una prospettiva interessante, insomma questa, un po' dettata anche dalle condizioni storiche e epocali in cui viviamo, ma anche densa di significato culturale, di significato filosofico, di significato teologico-politico, grazie.